Il 2020 si apre bene per la situazione sanitaria ad Agropoli ed in particolare per la più che carente assistenza pediatrica. Negli scorsi giorni avevamo parlato della situazione in cui si trovano i genitori dei bambini agropolesi, mettendo in evidenza che nella città di Agropoli manca chiaramente un punto di riferimento dove i cittadini si possono recare per emergenze serie o meno serie dei propri figli in età pediatrica. Infatti la sola guardia medica non può sopperire a questa carenza ed è stata spesso al centro di polemiche per mancata assistenza in situazioni serie, come nel caso della bambina di due anni con una ferita alla testa che è stata spedita direttamente a Vallo della Lucania. Per provare a risolvere o almeno a dare una svolta a questa grave situazione, come vi avevamo anticipato, ci eravamo messi in contatto con l'ufficio stampa del direttore generale dell'Asla Salerno, Mario Ierbolino, per parlare direttamente con lui di una possibile soluzione per queste mancanze nel comune agropolese e alla fine, dopo qualche giorno di attesa, siamo riusciti a parlare con il direttore generale. La nostra proposta per il direttore Ierbolino era sostanzialmente quella di adottare un progetto pilota ottuato dall'Asla di Foggia nel 2018, ovvero il progetto SCAP o Servizio di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica. Lo SCAP, ai tempi, ebbe un ottimo riscontro e sarebbe fondamentale per la città di Agropoli in quanto darebbe un punto di assistenza pediatrica all'attuale PSAUT, operativo anche nei giorni festivi e funzionale a situazioni che richiedono urgenza nel soccorso. Un progetto del genere potrebbe essere adottato anche nella cittadina agropolese e di sicuro risolverebbe l'animo dei genitori. La nostra conversazione con il direttore dell'Asla Salerno è stata sicuramente positiva. Riguardo lo SCAP, il direttore Ierbolino ci ha dato rassicurazioni. Infatti questo progetto era già a conoscenza del direttore e all'Asla si era già parlato di questa possibilità. Se lo SCAP potrà trovare una sua applicazione in Regione Campania, una delle prime aree in cui verrà implementata sarà quella di Agropoli e inoltre ci ha lasciato la promessa di fare il possibile per arrivare ad una soluzione e di risentirci per approfondimento in merito a queste carenze sanitarie nella città di Agropoli. Il dottor Ierbolino è stato anche informato del caso che abbiamo citato della bambina di due anni non accettata al PSAUT di Agropoli e ci ha riferito che farà le dovute verifiche riguardo questo spiacevole episodio. Dall'Asla Salerno arrivano le prime buone notizie di questo 2020 riguardo le carenze sanitarie che ormai affliggono Agropoli da troppo tempo. Confidiamo nelle parole e nell'apertura mostrataci dal direttore generale dell'Asla, con la speranza che finalmente il territorio possa avere a disposizione l'adeguata assistenza, soprattutto per i più piccoli.